Cari civettuoli, anche oggi torniamo indietro nel tempo. Siamo all'inizio dell'Ottocento, Torino e il Piemonte fanno parte della Francia di Napoleone Bonaparte. Nel 1803 viene a vivere a Torino il nuovo governatore generale dei dipartimenti subalpini, il barone di Busset, Jacques-François de Menoux. Un aneddoto molto famoso lo riguarda, pare che volesse far abbattere Palazzo Madama, da lui ritenuto una vecchia baracca. Si narra che Napoleone gli disse in merito. Mio caro Menoux, a Torino c'è solo una vecchia baracca e sei tu, Palazzo Madama rimane lì dove è sempre stato. Per fortuna, aggiungo io. Menoux è un generale, ha partecipato alla campagna d'Egitto e in quel paese ha conosciuto una ricca ereditiera. Più giovane di lui di 25 anni, la fanciulla si chiama Zobayda El-Bawad. Per sposarla il 2 marzo 1799, Menoux si converte all'islamismo e acquisisce il nome di Abdallah. La coppia ha un figlio, Jacques-Murad Soliman, nato nel 1800 a Rosetta, proprio dove venne ritrovata la famosa pietra che aiutò lo studioso Champollion a decifrare i geroglifici, come vi ho raccontato nel video di martedì scorso. Nel 1803 la famiglia si trasferisce allora a Torino, nell'ex palazzo reale diventato sede del potere napoleonico e subito in città si sparge la voce della presenza di questa donna proveniente dal lontano Egitto. Menoux dice della consorte, è una discendente di Maometto che non comprende nessuna lingua europea, passa la maggior parte della vita a meditare sul Corano. Vive da reclusa, per lei tutto ciò che c'è di bello nel mondo non è altro che un mezzo di seduzione che allontana dal cammino verso l'alto. C'è da chiedersi perché l'abbia sposata, tra l'altro se la trova così noiosa. Scrive l'arguta filippina di Sales, la nonna di Cavour. Menoux la tiene sempre a palazzo reale. Si mormora, ma la servitù mormora sempre a voce alta, che ogni tanto la bastoni con immenso amore. Nessuno ha mai visto in società questa moglie misteriosa, che paresca soltanto raramente, tutta velata e in una carrozza con le tende completamente tirate. Madame de Sales, celebre scrittrice a Torino nel 1804, invitata a Palazzo Reale dallo stesso Menoux, scrive in una lettera, ho visto la moglie araba del generale, ha dei begli occhi neri, una carnagione olivastra e una certa dolcezza orientale che ispira dell'interesse della pietà. Insomma, la curiosità dei torinesi non solo nei confronti della misteriosa reclusa di Palazzo Reale raggiunge i massimi livelli. Tuttavia la permanenza di Zebedee a Torino è breve. Già nel 1805 il marito è nominato governatore della Toscana e poi di Venezia, dove muore il 13 agosto 1810. Zobeida muore invece a Parigi nel 1817 senza aver più rivisto l'Egitto e la sua tomba si trova nel cimitero del Pearl Lachaise. La mia pillola termina qui, ricordatevi di contattarmi se volete visitare Torino e di iscrivervi a questo canale. Passo e chiudo.